C'è stato il rinvio alla Corte Costituzionale? Sì, la volontà è questa, però per una questione anche di correttezza nei confronti della Corte, io ho inviato una lettera la scorsa settimana alla Corte chiedendo un rinvio, proprio perché la mia giunta potesse approfondire la questione, visto che è un atto che dovrà deliberare la giunta del Piemonte, la volontà però comunque mia e del resto del Governo regionale è quella di ritirare il ricorso.